Chi ama la canzone d'autore sceglie il meglio, The Best. The Best, le più belle canzoni internazionali nella prima straordinaria raccolta di compilation. La prima uscita con il primo CD America è già in edicola a sole 6.900 lire. E The Best premia la tua fedeltà con un lettore CD portatile. The Best Music Collection, una grande proposta di Agostini.